Bravissimo però il portoghese a servirlo, fatto Milinkovic con il sinistro dentro verso Nani Verrà atteso il gol del portoghese ex Manchester United, arriva al diciannovesimo Palone lungo verso Nani, posizione regolare, Nani davanti a Palozzi, Nani Per mettere dentro un altro gol, c'è ancora Nani, cerca di esplodere il destro, mamma mia che gol di Nani Grazie